In pratica mi è successa una cosa, il bar era chiuso, non l'avevo fatto nella diretta, nel video registrato di prima ho detto che il bar sta chiuso, come cazzo faccio? Invece poi, mentre me ne stavo andando, me ne stavo andando perché non volevo aspettare, perché l'altro bar poi era chiuso, ho visto una macchina arrivare e lampeggiare. Ma chi cazzo questo? Come se avessi avuto la sensazione che con la macchina ci fosse qualcuno che riguardasse me, comunque, come fosse il proprietario del bar, mi sono sentito dire. Ma invece era il proprietario del bar che era sceso, mi sono avvicinato, dovevo Giovanni, ha detto, quelli frango, buongiorno. E in pratica, così è andata, così è andata, ma come stavo andando, per fortuna è arrivato il proprietario del bar in tempo. a prendere, a capire il naked bar, c'è stato un quarto doveva aspettarvi, perché lui comunque doveva fare le cose sue, doveva sistemare le cose. Poi per il resto, comunque, si è stati fatti di, ha preso questi tre cornetti, anzi due, uno ha mangiato là dentro. E l'altro lo porto da mia madre e mio fratello insieme, è stato fratello, diciamo, quello che è. Comunque ragazzi, per rinnovo il mio, la mia madre specialmente, la mia nipote, anzi, insomma, la mia nipotina. Per tutto questo ragazzi, vi auguro un buon anno, buon fine anno e inizio anno, a tutti. Inizia la so mattina, iniziate bene la giornata, dai, più o meno.